Il GAL Montefetro Sviluppo è partner, anzi finanziatore del progetto del PI2 Alta Valle del Metauro. Oggi al Barco di Urbana sono stati presentati i progetti privati ma anche quelli degli enti pubblici. Sì, è stata una bellissima giornata e abbiamo conosciuto personalmente gli attori di questo PIL e soprattutto i privati perché ovviamente con i pubblici abbiamo già una stretta sinergia che dura già da tanti anni e anche se si è rafforzata parecchio nell'ambito del progetto dei PIL. Questo del PIL è un progetto molto valido, noi ne abbiamo visti diversi, 5 sono i PIL del nostro territorio, 4 sono arrivati alla fase di finanziamento, questo si è aggiunto prima dell'estate anzi e contiamo e speriamo che nell'arco del tempo concesso si realizzino dei bellissimi progetti. Le prerogative ci sono, ci sono molti interventi pubblici e privati. Dunque un'esperienza positiva sia dal punto di vista dei progetti presentati che dall'organizzazione di tutta questa iniziativa. Sì, diciamo che a livello del territorio c'è stata una risposta importante e questo tutto coordinato anche dai soggetti non solo politici ma anche dalla facilitatrice Alessandra che è stata sempre disponibile ed è stata capace di fare sintesi in un territorio e in una progettualità abbastanza complessa. Diversi mesi fa è nato il PIL 2 che coinvolge l'Alta Valle del Metauro, un progetto molto importante per la valorizzazione e il rilancio dal punto di vista culturale, ambientale e tanto altro ancora di un territorio stupendo. Sì, è una sfida con un metodo molto nuovo, questa sperimentazione, questi progetti pilota, progetti integrati locali di grande interesse e di grande futuro perché si mettono a sistema obiettivi, fa bisogno di obiettivi per lo sviluppo del territorio creando sinergie tra il pubblico e il privato. Questo secondo me è un PIL particolarmente riuscito perché oltre a 7 interventi che fanno capo ai 6 comuni abbiamo avuto 14 richieste di domande di aiuto da parte dei soggetti privati del territorio di cui ben 9 finanziate. 9 sono nuovi progetti d'impresa, una è un'impresa ricettiva che va a sviluppare un nuovo servizio sul turismo bike e devo dire c'è una grande coerenza di insieme e una grande possibilità poi di crescita e di sviluppo per progettualità ulteriori future che varanno tutte nella sinergia di valorizzare e far conoscere al mondo questo spettacolare territorio.